Ciao, benvenuta e benvenuta alla lezione di ginnastica Pilates. Partiamo dai piedi, ma veramente solo qualche secondo e poi giù a terra per il matwerk. Tieni l'acqua portata di mano per la bevuta finale. In piedi all'inizio del nostro tappetino, solo qualche secondo di ascolto. Senti com'è la tua postura, prendi nota anche di come ti senti, di come stanno le varie parti del corpo, ti puoi dare un ordine dal basso verso l'alto, come sono allineate le varie parti. Quindi metteremo le braccia ai lati, scusami alla cosacca, davanti al petto, un braccio che preme sull'altro, le spalle stanno giù, la colonna si allunga. Incrocio un piede, io oggi incrocio il destro, cerco di alternare sempre dietro all'altro, allora più incrocio dietro all'altro piede più è difficile anche per le ginocchia, più allontano più risulta semplice per l'equilibrio e per l'articolazione delle ginocchia, dovremo scendere a terra. Lo faremo respirando prima, mi attivo bene nella powerhouse e scendo, mentre scendo lentamente mi allungo con la schiena, gestisco bene la mia powerhouse, scendo, sdraiati, io abbasso la camera, preparati sulla schiena, piedi uniti, gambe unite, quindi giù a cercare la posizione neutra della schiena, riscaldiamo insieme le spalle, quindi da qui portiamo le spalle verso le orecchie, inspirando, nel buttare fuori l'aria allunghiamo verso il basso, inspiro, sollevo, tira su bene e giù. Quando riscaldiamo le spalle in realtà andiamo anche a promuovere l'autoallungamento perché senti che più le scapole scendono più il collo si allunga. Sistemami bene il sacro appoggiato, centro schiena, parte posteriore della testa, braccia molto vicini al corpo, premile a terra, inspira ed espandi bene la gabbia toracica, torace apertissimo, imposta la powerhouse dal pavimento pelvico, quindi attivazione superficiale profonda del pavimento pelvico, ombelico alla colonna, risucchia in su, senti la contrazione ascendente delle viscere proprio e girovita che si fa sottile e sottile attorno alla colonna, sul finale richiudiamo insieme bene anche il costato, le famose, quando dai piedi ti dico metti le mollettine fra costato e addome. Inspirone, tipo ulche, le costole vanno a tirare bene la maglietta così rimane, fuori l'aria, attivati nella powerhouse, voilà. Ora premi a terra le mani, sistema bene la schiena in modo che sia ben stabilizzata, alzi e abbassi le gambe con una certa rapidità, mentre mantieni ben costante la posizione neutra della colonna. Esercizi di stabilizzazione che usiamo in questo momento per riscaldarci bene, sono a sé stanti esercizi di stabilizzazione e durante la lezione, come sai, diventano transition spesso per passare da un esercizio all'altro per eseguirlo correttamente. Qui mi fermo con le gambe a tavolino, oggi lasciamo un angolo retto anche al ginocchio, oltre che nell'anca, schiaccia giù bene il sacro, imprimi bene il centro della schiena, braccia ai lati del corpo, eseguo andrede con le braccia, inspiro, eseguo cinque movimenti diciamo veloci con le braccia. Ricordati che quando dico inspiro dico apertura della gabbia, quando dico ispiro c'è tutta l'attivazione della powerhouse dal pavimento pelvico in su. e quindi inspira 1, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, sentiti respirare profondamente e ancora ancora due, vai voler veloce con le braccia, ancora uno, molto bene, fermo le mani sotto alle ginocchia, mi sollevo con la testa e con le spalle, inspirando raggiungiamo la posizione seduta, appoggia i tacchi, allungati in avanti, cerca con le mani di superare i talloni, dove arrivi e arrivi, ti prepari con la schiena bella diritta dietro, aspetta poi modifico un po' la posa della camera, inspirare, chiudi le scapole, strizza le cosce, i piedi sono a martello e fuori l'aria scivola, la schiena scende come vedi diritta, solo nell'ultimo momento si adagia giù, rimani un attimo nella posizione neutra supina attiva, quindi stringi, resta giù, sposto io la camera un po', stringi bene le cosce, i piedi sono a martello, imprimi saldamente il sacro a terra con i glutei che restano rilassati, fai un attimo mente locale su questa posizione statica ma molto attiva, ora piedi a punta, premi le mani, recupera le gambe senza alterare la forma della schiena, mettiamo ora più fluidità a questo roll up, inspiro su, in, fuori l'aria, stretch, inspiro, preparo la posa, schiena dritta, dritta, forte, forte e fuori l'aria, giù, braccia e recupero ancora, ultimo insieme e giù, resta un attimo nella posizione neutra supina attiva, metti a posto tutto, preparo la gamba destra in maniera molto controllata per pareggiare bene le anche, facciamo insieme one leg circles, parto dal sollevamento del gluteo, c'è questo twist, nella prima metà inspiro, nella seconda metà c'è una forte attivazione della powerhouse, di un filo visibile che va a tirare sulla gamba, in realtà ci sta lavorando bene tutto il corpo perché resta ancoratissimo a terra, in e fuori fuori, scava, 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 in, scava, 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 in, ultimo letto la gamba, la stendo, dedico qualche secondo a rimettermi a posto e alla preparazione dell'altra gamba, gambe pareggiate, solleva il gluteo sinistro, prima metà del cerchio e tutto il corpo lavora, dalla powerhouse recupero, in e fuori, quando senti la schiena bella calda rendi ampio questo twist, incastrami bene l'anca nel ritorno ma al tempo stesso massaggio bene la testa del femore nella cavità dell'anca, fammi l'ultimo e stop, fletto e stendo, molto bene, resta un attimino in posizione neutra supina attiva, powerhouse attiva, sollevami la gamba destra di poco da terra, facciamo il reverse circles partendo che la gamba sospesa le anche sono pari, parto ancora una volta dal sollevamento del gluteo per portare la gamba dall'altra parte, tiro sulla gamba il più possibile, transito dalla metà, pareggia bene la posizione stabilizzandola, inspiro su e con controllo, pensa che adesso la powerhouse nel ritorno ha come un'azione frenante della gamba, in e freno la gamba che potrebbe cadere ma non la nostra, mi allungo, premo con le mani a terra, forza ancora, sentiti respirare bene, fantastico, fammi l'ultimo e quindi fermo la gamba, resto qualche secondo, ripareggio bene la postura, preparami la gamba sollevata appena sopra l'altra, come vedi il piede a punta, solleva il gluteo, twist, quando sei qui devi, quando dico incastrare l'anca è perché devi abbassare un pochino l'anca per pareggiarla all'altra e nel fuori l'are la gamba scende e ha una powerhouse, come dire un'azione frenante della gamba e ancora, faccio lavorare bene l'interno coscia per far salire la gamba, due ancora, voilà, ultimo e giù, fai i piedi a punta, premi a terra le mani, con controllo recupero le gambe, mani sotto alle ginocchia, sollevati con la testa e con le spalle, inspiro su per rolling leg e volume, passo in avanti dei glutei verso i talloni, abbraccia le tibie lasciando staccati da terra i piedi, le mani non partecipano alla presa delle gambe, forza delle scapole, della powerhouse delle scapole, con la powerhouse inferiore tieni l'addome approfondito e il senso di elevare la gabbia toracica dal bacino e quindi fuori, usa l'inspiro per salire, cambia l'accavallamento delle braccia, usa la powerhouse, tutti i meccanismi, pavimento pelvico, approfondimento e su, uno ancora, stop, wow, five abdominals, sdraiamoci con controllo, portiamo al petto le ginocchia, eseguiamo double leg stretch, inspiro, doppia powerhouse, qui le scapole, qui la powerhouse inferiore, le braccia tornano per fuori, mi allungo, scava scava, stacca bene la pancia delle cosce, doppia la powerhouse che sta controllando la posizione del tronco, sentiti respirare, allungati nella schiena di ripetizione in ripetizione, ancora in e fuori, concentrati, resta nel corpo, voilà, single leg stretch, stendi avanti la gamba destra, il ginocchio sinistro al petto e lo trattengo con la mano opposta, fai mano e ginocchio opposti, la mano invece dello stesso lato, prende la tibia e tiro, prendi bene la coordinazione, quindi osso sacro bene giù, schiena che allunga, mantieni la coordinazione, tiro davvero le ginocchia al petto, cinque respiri lenti e profondi, ritmo disgiunto dalle gambe e fuori l'aria, approfondisco bene dal basso verso l'alto, pavimento pelvico attivo, ventre approfondito, colonna che si allunga, resta nella powerhouse, ancora un respiro, fantastico, a terra un attimo con i piedi, braccia lungo i fianchi, sali a brigio con il corpo, apri la linea delle anche, mantieni stretti i glutei per dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, scendi, premi le mani a terra, riporta le ginocchia al petto, stendi le gambe per scisor, avvicino la gamba destra al petto, sforbicio le gambe in modo tale che siano simmetriche, osso sacro schiacciato giù al centro, tese possibilmente le gambe, vai, tiro la gamba sempre di più, mi allungo sempre di più dalla nuca, quando senti le gambe abbastanza elastiche, prova ad aumentare scisor, mentre le gambe e le braccia eseguono questo movimento con l'allungo della nuca, del collo, faccio cinque respiri lenti, profondi, disgiunti come ritmo del ritmo delle gambe, sempre più ampio a scisor, sempre più ampio, e voilà, mi fermo, braccia lungo i fianchi, sollevati a bridge, glutei ben contratti, coccige verso il pube, mantieni uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, scendo, premo i palmi delle mani a terra, sulle ginocchia, pronti per criss cross, allora teniamo le mani sovrapposte a sostegno della nuca, gambe che partono a tavolino, inspiri, quando butti fuori l'aria sollevati, resta un attimino fissa la posizione della cervicale, molli la testa sulle mani, gomiti nel campo visivo, sacro in appoggio, addome approfondito, sali il più possibile, uno, due, ma sali dall'addome, quindi vado in twist da una parte e dall'altra, attenzione alla direzione del gomito che va non al ginocchio ma pensa a toccare il malleolo del piede, però non devo girare la gamba, è il gomito che tira su, tira su e cambio, resto alta al centro, uno, due, mollo la testa sulle mani, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, stop, mani sotto ai glutei, palmi in giù, mento abbassato, stendi le gambe in alto, addome approfondito, inspiro le gambe scendono, fuori l'aria, strizza le gambe tra di loro, scavo l'addome alla powerhouse, recupero le gambe, inspiro giù e fuori 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 fuori, giù bene il centro della schiena che è quello che tende a staccarsi, mano nel nostro, giù e fuori 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 fuori, powerhouse, pavimento pelvico, approfondimento, schiaccio il centro della schiena giù, ancora uno, pavimento pelvico, approfondisci il centro della schiena, nuca che allunga, ginocchia al petto, mani sotto alle ginocchia, sollevati con la testa e con le spalle, raggiungi la posizione seduta per spile, stretch, forward. Siamo seduti, gambe divaricate il più possibile con i piedi flex, braccia distese, anche piantate, mollettine qui, attenzione a non confondere lo stare diritti in auto allungamento con l'apertura del costato, mi tirano in su qua dietro, mantieni cinque, quattro, tre, due, uno, giù dalla testa, collo, spalle, vado giù il più possibile, resisto con le gambe e vado di più, uno, vado di più, due, vado di più, tre, cammino all'indietro e quindi lo ripeto, pensa di sprofondare con le anche nel mette e di allungarti dalla nuca in su, per cinque, devi sentire giù bene le scapole, il cordone proprio ai lati della colonna lavorare, cinque, quattro, tre, due, uno, giù, mi allungo, mi tiro, mi tiro, mi tiro, mi tiro, mi tiro, mi tiro, mi tiro e quindi su. ultimo, forza, apro un pochino di più, tese bene le gambe, tirati per cinque, quattro, tre, due, uno, giù in avanti, se la risalita, il risalire ti dà noia alla schiena, mi raccomando, cammina gattonando con le mani all'indietro e quindi proseguiamo riavvicinando di poco gli arti inferiori, lasciando una larghezza poco più della distanza delle anche, pianto le anche, braccia fuori, scapole unite, giro vita forte, inspiro per adesso, vado in twist, giro il palmo della mano dietro, mi allungo con le braccia per svitarmi di più ma nulla cambia qui, fuori, 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 fuori e ritorno dall'altra, giro il palmo della mano dietro e powerhouse, allungati, allunga le braccia, tirati, 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 e ritorno dall'altra in velocità adesso, inspiro, giù il gluteo opposto, mignolo al mignolo, fronte al ginocchio e vado di più uno, di più due, di più tre, avvengono un sacco di cose, ti ricordi vero, mignolo che taglia il mignolo, fronte al ginocchio, gluteo destro giù, qui a che approfondisco e le braccia che tentano l'allungo, dall'altra, vai, giro e, e voilà, ancora, e, e su, ultimo, e, e su, molto bene, mi avvicino ad un lato del tappetino e mi giro pancia in giù, ci mettiamo quindi proni per swan dive. Siamo con le gambe unite, strette e forti, glutei contratti, mani davanti alle spalle poco più larghe delle spalle stesse, powerhouse on, quindi la pancia non tocca terra, inspirando, mantieni forti le gambe, eleva il busto da terra, mantieni il senso dell'allungamento, giro la testa destra, sinistra e quindi giù. In realtà adesso, oltre che abbiamo testato la rotazione del capo, vado proprio a girare e a guardare, penso di guardare un piede, l'altro e scendo, ancora, tu, giro, giro e ci mettiamo sui gomiti per single leg kick back. Dai gomiti fissa bene la posizione perché è già esercizio, vedi, gli errori sono qui, l'insaccarsi nelle spalle, voilà, respingo il suolo, pancia powerhouse che molla in fuori invece di tenere, pube in appoggio, glutei contratti, stretto e forte, forti le cosce. Nulla cambia anche quando andremo a muovere la gamba, quando muoviamo la gamba si tenderà ovviamente all'errore, ma non lui. Inspiro, fletto un ginocchio, avvicino il più possibile il tallone al gluteo, powerhouse, braccia, fuori l'aria, stendo, cambio, tiro, 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 stendo, in e... Fallo sempre alternato. Sempre più forti nelle spalle, nella powerhouse che dà sostegno alla schiena. Forza. E stop, piano scendo e con l'aiuto delle braccia mi sollevo, passo lentamente a qualche secondo di rest position, appoggiando i glutei sui talloni, allungati, appoggia la fronte a terra, allungati per bene e quindi passeremo a un esercizio in quadrupedia. Quindi, gambe leggermente separate, glutei in filo più indietro delle ginocchia, premo le tibie a terra, mani poco più avanti delle spalle, fai attenzione all'allineamento della schiena, non è molle né in un senso né gobba né nell'altra, ben allungata e tirata. Ricordi abbiamo fatto punto la mano destra, punto il piede sinistro, stacco di poco da terra e devo mantenere bene sospesa la box per cinque, quattro, tre, due, uno, giù. Inspiro, preparo l'altro incrocio, valuto la mia box, stacco da terra anche di pochissimo, la mano e il piede per cinque, quattro, tre, due, uno. Mi metto un po' più avanti, inspiro, preparo. Attenzione che il bacino tende a muoversi molto, eh. Sospesa la box per cinque, quattro, tre, due, uno. Inspiro, espando la gabbia toracica in tutte le direzioni. Stacco, powerhouse dal pavimento pelvico, fuori, 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 allungati nella schiena. E giù, ultimo di qua, ultimo di là. Forte, compatta, sospesa la schiena, dall'altra, l'ultimo. Dai, senso dell'allungo. Attenzione a non far andare fuori la gamba. E stop. Ci mettiamo, girate, sul fianco destro per side kick. Quindi sono giù, la gamba sotto è flex, bene l'orientamento del busto, parallelo al suolo, fortissimi i glutei, ma soprattutto questa linea. Mano qui, doppio kick front e forte lavoro per l'addome quando la gamba va indietro con il gluteo stretto stretto. Kick, kick, and back. Dai il senso dell'allungo della colonna aiutandoti con la mano dietro al collo. Forza! In, in, and back. 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 Voilà. Mi sollevo un pochino, stacco la gamba di sotto e sollevo dieci volte. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Supero la gamba, prendo il piede, lo tiro sul più possibile e dieci insistenze ancora con la gamba di sotto. Uno, due, il ginocchio deve guardare avanti, tre, quello della gamba, in realtà tutti e due, quattro, cinque, allungati con la schiena, sei, sette, otto, nove e dieci. Quindi raccolgo gamba su gamba con l'aiuto del braccio, mi sollevo e andiamo dall'altra parte. Prima giù del tutto, flettimi la gamba di sotto. Facciamo prima il double kick, spalla su spalla, metti a posto, dedica qualche secondo, gluteo ben contratto, mano che ti allunga la schiena, piede d'acciaio, kick front, in, in, and back. Attenzione alla box, sempre solida e forte, soprattutto quando la gamba va dietro non mi inarco, quando la gamba va in avanti non divento gobbo con la schiena. In, in, and back. In, in, and back. In, in, and back. Due volte ancora. Ho sbagliato il piede, scusate. Kick, and back. Ultimo. Kick, and back. Fletti la gamba che ha appena lavorato, sollevati di poco, mano al fianco, colonna che comunque allunga, dieci sollevamenti della gamba. Il ginocchio deve proprio guardare avanti, posso anche tenere flex in piede. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Giù per un attimo la gamba, scavalco, prendo la caviglia, tiro forte e quindi ancora dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Raccolgo entrambe le gambe, mi aiuto a sollevare il corpo, mi preparo per the seal all'inizio del tappetino. Mani a preghiera. Powerhouse pronta. Stacco da terra i piedi, avvolgo esternamente le caviglie. Le braccia sostengono le ginocchia, i piedi sostengono le mani. Inizio a fare le battute dalle anche, tengo raccolta forte la powerhouse in allungamento, quindi dondolo, torno in equilibrio. Tre battute. Uno, due, tre. Dondolo, su. Uno, dalle anche. Le ginocchia sono sostenute dalle braccia. I piedi invece spingono in su le mani, dondolo, su, compatto il corpo. Uno, due, tre, dondolo e stop. Mi preparo all'inizio del tappetino. Mani a terra, piedi in appoggio solo sugli avampiedi, dita ben aperte, spingi il corpo verso la panca frontale e ritorno. Ancora, cammina e ritorno. Ancora. Molto bene. Cammino e alzo il bacino. Questa volta cammino in avanti con i piedi. Resto giù con le gambe un po' piegate. e molto lentamente, molto lentamente risali con il corpo. Io l'ho fatto più velocemente di te, così posso andare a spostare. Ok? Eccoci qua. Molto bene. Siamo ritornati su, in piedi. Concediamoci un secondo di ascolto. Ok? Voila. Anche il respiro. Sentiamo com'è il nostro respiro, il nostro allineamento posturale. Molto bene, ragazzi. La nostra lezione per oggi termina qui, o meglio termina qui, con un sorso d'acqua insieme. Bene. Allora ragazzi, io vi ringrazio e noi ci vediamo domani per il nostro allenamento quotidiano. no prestissimo. No prestissimo! Grazie a tutti.